E' l'incubo di tutti gli studenti che frequentano un liceo, la temuta versione di latino. Di certo non la vive così una studentessa retina che invece è arrivata quarta su quasi 600 studenti di tutta Italia, di cui 300 solo toscani, al prestigioso concorso Certamen in Ponticulo era e giunto alla 36esima edizione. Il concorso di traduzione da latino e greco per gli studenti dei licei è organizzato dall'Associazione Italiana di Cultura Classica in collaborazione con la Fondazione Piaggio e si svolge a Pontedera. Ha visto dunque brillare il nome di Jasmine Giannini che frequenta la seconda E del liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Un'edizione da record, commentano gli organizzatori, ma i partecipanti erano stati così numerosi. A Pontedera sono arrivati studenti da tutte le province e persino dalle isole. Jasmine, a differenza della maggior parte dei partecipanti, era stata peraltro avvisata pochi giorni prima della sua partecipazione al concorso, ma questo non l'ha di certo spaventata e accompagnata dalla mamma, è arrivata appunto quarta. Unica retina presente. La premiazione si è svolta lo scorso 21 maggio e nell'occasione i genitori di questa giovane studentessa, la mamma Mara Rossi e il papà Andrea Giannini, ringraziano l'Istituto Vittoria Colonna e la professoressa Simona Del Gamba per la qualità dell'offerta formativa che per loro è stata alla base, oltre ovviamente all'impegno di Jasmine, di questa enorme soddisfazione.